Capita che una mattina, una fredda mattina di fine inverno, ti trovi a passare dalle parti del parco Spigarelli. Sì, il parco realizzato nel quadro dei progetti di sostenibilità che Enel sta conducendo a Civitavecchia, che sta diventando una specie di tormento non solo per i residenti del quartiere di San Gordiano, che potrebbero essere nei primi fruitori, ma per tanti Civitavecchiesi che vorrebbero godere di quello spazio verde ultimato da tempo e ancora chiuso. Capita, tornando al racconto, che in quella fredda mattina di fine inverno vedi del movimento all'interno del parco. Capita, infine, che accusando le orecchie e andando un po' a chiedere in giro, riesce ad avere un quadro quasi certo della situazione. Insomma, andando nel concreto e sperando di non alimentare ancora una volta illusioni troppo facili, il parco potrebbe davvero aprire i battenti in tempi brevi. Il manufatto, quello che dovrebbe ospitare il bar, pizzeria, ristorante e che può contare anche su alcune stanze al secondo piano, sicuramente no. Ma all'area verde, le due sezioni dedicate ai cani, i giochi e tutti i percorsi benessere, potrebbero finalmente essere fruibili nell'arco di pochissimo tempo. Magari poco prima o poco dopo la Pasqua. Questo perché il collaudo è in fase di ultimazione, visto che dopo il controllo del corretto funzionamento di tutte le apparecchiature e dei diversi sistemi presenti, al baglio del professionista sono adesso solamente i documenti. Quindi, una volta arrivata la firma, il parco Spigarelli potrebbe finalmente aprire i battenti, inizialmente senza la presenza di un gestore, ma con quella di un vigilante, peraltro già al lavoro, nonostante l'area verde sia chiusa e con il sistema di videosorveglianza perfettamente funzionante. Più tempo, invece, per l'affidamento in gestione del parco e soprattutto del manufatto. Lì non solo manca il collaudo, anche perché non è ancora stata allacciata la luce che è di competenza del Comune, ma soprattutto si è a carissimo amico per quanto riguarda l'affidamento in gestione. Come si ricorderà, a luglio erano scaduti i termini previsti dal relativo avviso pubblico, ma il bando venne ritirato dopo i ricorsi presentati da alcuni operatori commerciali. Da allora, sul sito istituzionale di Palazzo del Pincio, non è stato pubblicato alcun nuovo avviso. Insomma, mentre per l'apertura del parco sembra essere ormai una questione dei giorni, per la sua gestione ci sarà da attendere e molto.